Presentati alle persone che seguono il mio canale e rendilo per favore più interessante, vai, ti do dieci secondi Dieci secondi, porca p*****a, però mi devi dar via te A posto sono passato, andiamo Divi che sono disghaisato, sono disghaisato, che bello, se vedi qualcuno di fianco a te che appunto non è una persona con il nome Mr. Jake, sono io Sei Midnight Chan? Uno, due, tre? Sì, ma come hai fatto a non seccarci? Ma forse c***o, che c***o sono Midnight Chan, uno, due, tre, ma che nome è? Fare proprio a scrivere pene, un, due, tre, che è meno sgamabile, guarda Sei di speedbligiare? Merda, sono il migliore Mamma mia, mamma mia, è già un buon inizio, va benissimo, non ti preoccupare Sei più bravo di Marco, vai, almeno siamo già al livello Saluta Marco, saluta Un saluto a Marco, ti seguo sempre comunque, in qualsiasi cosa tu faccio Mi hanno aperto il culo e c'è stato uno che si chiama Dark Anto Io sono fortissimo e faccio così Bravissimo Giacomo, ma vedi che allora sei fortissimo, sei, mamma mia Fammi capire adesso bene, tu cosa porti anche nel tuo canale, perché dovranno pure conoscerti anche nel... Ma porco tu, guarda, 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 guarda dietro di te Ma Giacomo però killa, ma Giacomo Eh zì, a**o, non ci ho capito niente Non aveva fede così Poi come quando la professoressa ti dice, hai capito qualcosa, gli fai, ahah E poi lei ti incula perché ti fa la domanda Allora, ripetimi quello che hai detto Oh, tu vai a passare certe cose Allora, ok Arrivo da te, ma te sei morto? Ma io sono fortissimo e la gente gli faccio vedere il mio... Giacomone, Giacomone, Giacomone gli salvo io, Giacomone Giacomone l'ho buttato fuori Eh, poi Giacomo però... Giacomo! Sì, eh zì, io non ho cuori, io devo correre via Aspetta che ti specto, senti che roba Io c'ho letteralmente tre cuori Eh, cosa facciamo qua? Allora, Giacomone, io sono morto Ok Perfetto In questo caso tu quello che devi fare è... Ah, lo aspetto Esattamente Giacomo, Giacomo Giacomo, sei fortissimo, Giacomo sei fortissimo Mamma Scappa, scappa, scappa Dietro di te Giacomo! Eh, ci ho provato, zì Va bene, non ti preoccupare La prima è per i bambini Eh, intanto di scrivere Tu cosa sei? In questo momento sono dentro una... Un smp Conosciuto come Pandora È mio a prendere questi diamanti Guarda che fa sbridge Vai, ma di Mr. Tommy, ma chi? E poi si è graccia così Oh, ci puoi scendere bianchi, zì, zì Ma dove le vi? Z da G-fire Guarda, l'ho buttato giù Sono fortissimo Guarda, giù, 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 giù Zia, zì, tu vai, tu vai, tu vai Io sono un pro player di mano Corretto distrutto Ok, guarda, dimmi che sei ancora vivo Io sì, sono vivo Ma mi stanno pushando Arrivo, ti preoccupare Sto arrivando, sto arrivando Sto corriendo, sto corriendo Corro, corro, corro Sono un pro player videogamer Mi sta pushando Gigi Amma mia Ma sai che se cadi sei morto, vero? No, fratello, sono ancora bello vivo Fratello, c'è un giallo Ah, zì, questo qua sta con le sciocomani da Gatorade Corri, Giacomo, 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 Giacomo Non ti preoccupare, Giacomo Ho preso, ma ho messo a pecora Anch'io Guarda, ero nella Intermission Lobby Allora, ragazzi E sono uno streamer Porto Minecraft Su una serie che si chiama Pandora SMP Una fantastica survival Tipo la Dream SMP Ma noi siamo più belli, più forti Abbiamo i giocatori più forti d'Italia Abbiamo i top b Io Nuovi Io vi lascio Lato le Twitch in descrizione di Giacomo Perché lui streama Vai, fammi vedere di nuovo Fantastico Questo è il modo perfetto Lo dico anch'io sempre Ogni volta che è perfetto Dover comunque buttarsi nel vuoto Eh, il dito Mi ha scivolato il dito Cos'è successo? Ho distrutto il letto dei blu Ma sì, ma tu veramente Ma sei Te sei uno streamer O sei uno youtuber O sei un dio Entrambe le cose Ma col dio ci aggiungo il c***o Allora, praticamente Ho fatto un salto Sono caduto nel vuoto E mi sono autobloccato il salto Io non so cosa è successo Ma tipo Io ho dato l'uccello in volo Cara, come cosa C'è uno Allora, Giacomo Se tu vieni qui C'è uno con la skin di Kendal Mi fa un po' paura Di Kendal? Cazzo è Kendal Adesso Mi sono fatto di ferro Scusa La cosa che domando io È che voi vi ritenete La Dream SMP Italiana, giusto? No Io non mi Cioè No Mi dai un diamante Non so quante cose ci siano Tipo simili Sono caduto Al momento comunque no Non penso ci riteniamo tale Semplicemente A livello magari delle persone Che vogliono farsi un simile esempio Potete prendere in considerazione La Dream SMP Ma se hai fatto tu te Io sono a prendere diamanti in giro Ma infatti tu stai facendo vanilla Qui c'è da spaccare C'è da far casini qui Io tipo Ho distrutto un letto Di chi? Cosa hai fatti in questo momento? Anzi Sai che ti dico? Andiamo a Dream SMP Dove cazzo sei? A bivinire Io sono qua dei gialli Ti vedo? Sei tutto bello verde Sei? Ci sono anche i blu Di là andiamo Andiamo Ma direttamente tanto Sono due E noi siamo in tre Giacomo bravissimo Giacomo Facile Leggero Ho detto Ho detto più volte Giacomo in sto video Che ti ha letto Probabilmente Tipo morto Comunque Se vieni qua Dagli azzurri Possiamo picchiarli Io penso di aver dato Un pochettino Le botte a Persona Di quello Devevo Ma che cazzo Mi spara Falli No C'ho un bianco Che mi sta pushando Ma fermo Dove cazzo sei? Io sono dai Dai blu Quella intanto C'hanno Quella intanto Vabbè Degli azzurri Che c'hanno Anche te Però E' azzurri Ma Porco Dove Si sono con l'arco Però non mi va bene Stavamo adesso Tu sei che fai Adesso corri via Vado a prendere L'enderpearl Giacomo guardami Giacomo guardami Sì ma tu Fai pro playing Guardai uno Guardai il letto distrutto Eh al letto Questa qui Oh Azzia Azzia Madonna Oddio Giacomo 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 come stai facendo Come stai entrando Giacomo Ma dove stai intando questo Ci stai Fantastico Qua veramente Gioca a code Dal 2001 Ok Se vuoi sai che inizia a ridere Vero Non muoio Io sono immortale Giacomo Vieni direttamente Nella isola nostra Appena posso arrivare Guarda che cado nel vuoto Mentre arrivo lì Io ho 40 d'oro Ma sai che cosa me ne faccio Di 40 d'oro No 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 Ok Ma io ti giuro Che a correre Sono stupato Giacomo non correre Giacomo non usare le gambe Vola Col pensiero È il mio secondo nome Giacomo vola col pensiero Come cazzo hai fatto a indovinarlo Anch'io sono così Quando ti faccio Da cagare la mattina A proposito di cagare Io non cago Da tipo due giorni Beh ragazzi Benvenuti Nell'angolo cose Che ci interessano tutti Immaginavo Ma io non so se mi ha visto Questo qui Ma non penso che ne abbia visto Perché te se non era solo Ma aspetti Ma tu manco Ma aspetti Tu prendi Vai vai di qua Vai di là Porco tu che noc Perché ho preso Mamma mia Sono volato in cura Chi so io È morto Sono fortissimo Ma dove cazzo Stanno i bianchi Giacomo l'ultimo Sì ma sei fatto Ah ma è qui Perché sta saltellando come Non lo so Non sto capendo È tipo tutto qua Giacomo Ma che sta facendo Giacomo Ma che stai fatto Che stai fatto Giacomo Ho visto più Mamma mia Che cos'è non stato Stato sta game Easy Easy Sto facile No perché Siamo usciti da qualcosa Vabbè in tutto ciò Comunque mi sono Presentato Ciao a tutti Sono Iarici E benvenuti Nella mia nuova serie Ma porco due Giacomo Giacomo Ti do l'ultima Occasione per dire Chi sei E cosa vuoi fare Cosa voglio fare Nella vita Ti do l'ultima occasione Per dire chi sei Agli spettatori Ciao ragazzi Sono Giacomo Insano Sono uno stimo su Twitch Stimo dalle 3 alle 19 Cioè alle 7 di sera E porto lentamente Minecraft Su appunto Sulla Pandora SMB Questo è quello che faccio Al momento Cambierò giochi Può essere Niente Faccio questo Fine A posto Fantastico Capito Circonciso Circonciso No Ah ma meno male Infatti io dicevo Perché beh Vuruta come cosa Come pisci poi